In che modo la tua attività del naturale sta aiutando le persone e il mondo in generale? Ciao, sono la dottoressa Sara Trabalza, farmacista e naturopata australiana, e aiuto le professioniste del naturale ad allineare la loro missione umana a quella professionale. In questo video andremo a vedere tutte quelle situazioni in cui a volte ti sei sentita di non avere uno scopo e come poter ritornare sulla retta via, per così dire, per davvero andare a ricercare un senso di significato nella tua professione. Questo perché molto spesso durante il cammino, il nostro è un viaggio meraviglioso di autoscoperta e di accompagnamento alle persone verso la scoperta di se stesse, cosa può accadere? che ci sentiamo in qualche modo perse, nel senso che ci sentiamo in un modo che non sappiamo realmente se tutto quello che stiamo facendo come azioni pratiche sta contribuendo a un miglioramento nella qualità di vita del mondo in generale e delle persone che stiamo aiutando chiaramente. Questo perché non abbiamo, diciamo, un senso della misura o anche degli strumenti di comparazione. Possiamo dire sì, questo va bene, questo è sbagliato, cioè noi ci moduliamo e andiamo avanti lungo il cammino in base all'autoconoscenza e l'autoconsapevolezza di noi stesse. Quindi a volte non avendo quella bussola, per così dire, non sappiamo se stiamo andando nella giusta direzione oppure no. Soprattutto quando poi durante una sessione, durante un trattamento, le cose non vanno davvero come vorremmo e magari non otteniamo quei risultati, non facciamo ottenere alla persona quei risultati che c'eravamo già prefissate, avevamo visualizzato un qualcosa che poi non si avvera. Quindi arrivano questi dubbi, queste incertezze, ma sarò la persona giusta per quella persona che sta chiedendo aiuto? Starò facendo la cosa giusta? Starò davvero perseguendo i miei obiettivi? Starò davvero facendo un lavoro che mi appaga, che mi dà soddisfazioni? Quindi arrivano anche quei dubbi di magari voler smettere, voler rinunciare a un sogno. Allora quello che io consiglio alle mie studentesse del programma Petals Elite, dove andiamo davvero in profondità nella creazione e nell'implementazione della loro attività professionale appunto nell'ambito del naturale, è quello di ricollegarci continuamente al nostro sentire, alla nostra anima. Perché quando ci allineiamo alla nostra anima non c'è altra soluzione. Allora sentiamo davvero quella connessione profonda con lo scopo dell'anima e sentiamo che quella è l'unica strada possibile. Quindi non c'è piano B, noi andiamo dritte per quella strada. Poi chiaramente lungo il cammino ci sono ostacoli da superare, chi è che non ce li ha? La vita ci mette alla prova, ogni giorno ci sono sfide da superare, però se abbiamo una direzione chiara, sappiamo che la nostra anima ci sta chiamando verso quella direzione, verso andare lì, allora tutto si tranquillizza per così dire, tutte quelle paure, quei dubbi, ce la farò, non ce la farò, starò facendo la cosa giusta, svaniscono in un attimo, svaniscono, non hanno spazio per restare e noi andiamo avanti, continuiamo lungo il cammino e quando abbiamo le giuste informazioni anche al riguardo, allora non possiamo che prosperare e questo è quello che auguro anche a te che mi segui, che stai ascoltando questo video, di rimanere sempre allineata con la tua anima. Allora in quei momenti di caos e confusione ti fermi, respiri e ti fai questa domanda, ti poni questa domanda, ti chiedi cosa desidera davvero la mia anima in questo momento? Allora se ci sono dei cambiamenti lungo il cammino, magari ti potrà offrire una sfumatura di quello che già era il tuo scopo, magari fatto in un modo diverso, fatto in un altro modo, però che alla fine ti riconduce sempre allo scopo della tua anima, che è appunto quello di metterti a servizio degli altri in un modo nuovo, innovativo, siamo appunto in tempi moderni e sicuramente troverai il tuo modo unico e irripetibile di presentarti e comunicare alle persone e al mondo ciò che fai, ma soprattutto chi sei, perché viene dalla tua anima. Se questi contenuti ti sono stati di aiuto e risuonano fortemente in te, clicca il link per prenotare la tua destiny call e vedere se possiamo lavorare insieme.